megan da venti con il guai e porti il cuore tre volte di abituare al caldo quindi mi ricordavo ma come se ho chiudere e l'audio da qua non lo so vai mi affola mi sto qua mi sembra abbastanza un grande angolo dai tanto gira a te si scampierà mi? mi si? non lo so ma è la prossima casa mi sono andata no 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 si è più rituale ma con gente non conosce sono tipi da o è che non so si 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 ci si 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 Lui, martedì, mercoledì, giovedì ora, sì, giovedì, ehi! Lui, martedì, giovedì, ehi! Lui, martedì, ehi! Lui, martedì, ehi! Lui, martedì, ehi! Lui, martedì, ehi! Lui, martedì! 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 martedì! Lui, martedì! Lui, martedì! martedì! Lui, martedì! Ehi! Lui, martedì! ok per un attimo ok 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti